Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo di trattori frutteto più scelti dagli italiani. Supportate il canale con un mi piace e un commento e iscrivetevi per essere sempre aggiornati sulle novità in campo agricolo. Grazie. Iniziamo. L'agricoltura italiana è nota per la sua diversità di colture, dalle olive al vino, dai frutteti agli ortaggi. Per soddisfare le esigenze specifiche di queste colture speciali, gli agricoltori italiani spesso si affidano a trattori appositamente progettati per lavorare in spazi ristretti e terreni irregolari. In questo articolo daremo uno sguardo ai trattori da frutteto più scelti dagli italiani e alle caratteristiche che li rendono ideali per l'agricoltura specializzata. Landini Rex 4F. Versatilità e maneggevolezza Landini Rex 4F è uno dei trattori da frutto più apprezzati dagli agricoltori italiani per la sua versatilità e maneggevolezza. Con potenze che vanno da 70 a 110 CV, questo trattore offre prestazioni affidabili su terreni collinari e in spazi ristretti. La cabina ergonomica e confortevole garantisce il comfort dell'operatore anche durante lunghe ore di lavoro nel frutteto. Same Frutteto S. Tecnologia avanzata per la massima produttività, il Same Frutteto S è anche un modello popolare tra gli agricoltori italiani grazie alla sua tecnologia avanzata e alle eccellenti prestazioni. Dotato di un motore potente e di una trasmissione di ultima generazione, questo trattore consente la lavorazione del terreno con elevata efficienza e precisione. Una cabina di pilotaggio completamente integrata con display touchscreen consente al conducente di monitorare e controllare facilmente tutte le funzioni del trattore. New Holland T4F Affidabilità e innovazione New Holland T4F è un altro nome di riferimento per il settore italiano dei trattori da frutteto. Dotato di comprovata affidabilità e innovazione continua, questo trattore offre prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni agricole. Le sue dimensioni compatte e la maneggevolezza lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti, mentre le sue prestazioni e versatilità lo rendono adatto ad un'ampia gamma di colture. Cubota M5001 Narrow Potenza e precisione in spazi ristretti il Cubota M5001 Narrow è un trattore da frutteto caratterizzato da potenza e precisione in spazi ristretti. Con una potenza motore da 95 a 113 curriculum, questo trattore fornisce la potenza necessaria per affrontare le colture più impegnative. E la sua costruzione stretta e maneggevole lo rende ideale per lavorare nei frutteti italiani. Carraro TGF Flessibilità e adattabilità Carraro TGF è un'altra scelta popolare tra gli agricoltori italiani grazie alla sua flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche del frutteto. Con un'ampia gamma di opzioni di configurazione e accessori disponibili, questo trattore può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di coltura fornendo allo stesso tempo prestazioni e affidabilità superiori. Antonio Carraro TRG Maneggevolezza e prestazioni ottimali L'Antonio Carraro TRG è anche un'ottima scelta per gli agricoltori italiani che lavorano nei frutteti. Questo trattore ha un'eccellente manovrabilità e agilità, che lo rendono ideale per lavorare su terreni accidentati e in spazi ristretti. Con una varietà di motori che vanno da 50 a 100 CV, TRG fornisce la potenza necessaria per affrontare un'ampia gamma di attività agricole, dalla potatura alla raccolta. FENT 200 VARIO V-F-P Versatilità e facilità d'uso Il FENT 200 VARIO V-F-P è un trattore da frutteto caratterizzato da versatilità e facilità d'uso. Dotato di un motore potente e di una trasmissione avanzata, questo trattore offre prestazioni eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni agricole. La cabina spaziosa e confortevole consente agli operatori di lavorare instancabilmente per ore e ore, aumentando la produttività complessiva. Lamborghini MAC VRT Prestazioni e stile italiano Il Lamborghini MAC VRT è un trattore da frutteto che unisce prestazioni e stile italiano in un'unica macchina. Con il suo design elegante e prestazioni impressionanti, questo trattore è la scelta ideale per gli agricoltori che cercano prestazioni elevate e un look distintivo. Il pozzetto dal design ergonomico garantisce comfort e controllo ottimali anche durante le lunghe ore trascorse nel frutteto. Dutzfar 5DS TTV Tecnologia ed efficienza Il Dutzfar 5DS TTV è un altro trattore da frutteto caratterizzato da tecnologia avanzata ed efficienza. Dotato di una trasmissione a variazione continua, CVT e di una tecnologia di controllo avanzata. Questo trattore garantisce una preparazione del terreno altamente efficiente ed estremamente precisa. Una cabina moderna e confortevole consente agli operatori di lavorare comodamente e in modo produttivo. Cubota M700 Trenarro Robusto e affidabile infine. Il Cubota M700 Trenarro è un trattore da frutteto caratterizzato dalla sua robustezza e affidabilità. Dotato di un motore potente e di una struttura robusta, questo trattore è progettato per affrontare le sfide più difficili nei frutteti italiani. La cabina ergonomica garantisce comfort e controllo ottimali durante il lavoro. In sintesi, i trattori da frutta sono fondamentali nell'agricoltura specializzata italiana e la gamma di modelli a disposizione degli agricoltori è ampia. Grazie alle elevate prestazioni, alla tecnologia avanzata e al design ergonomico, questi trattori consentono agli agricoltori di ottenere il massimo rendimento dalle loro colture e contribuiscono al successo dell'agricoltura italiana. Grazie per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo AgriVideo.